L'Università dell'Aquila è la Siemens, leader mondiale nella produzione di componenti per l'automazione industriale, insieme per un accordo che ha permesso di allestire un test enter, progettato per fornire un ambiente di test avanzato e completo per una vasta gamma di applicazioni industriali. L'accordo è stato presentato a Roio durante un workshop. Per l'Ateneo dell'Aquila un rapporto molto significativo, anche per avvicinare il mondo dell'impresa agli studenti. È un'iniziativa molto importante, della quale ringrazio naturalmente i colleghi del Dipartimento D.E., della ex Facoltà di Ingegneria, più che un laboratorio, è un program center che è deputato a formare, a certificare dei certificatori che poi saranno estremamente utili per mettere sul mercato dell'automazione professionalità qualificate e certificate per le loro competenze. Già esiste in altri luoghi d'Italia e del mondo, è importante che anche l'Aquila abbia avuto questa opportunità come riconoscimento delle proprie competenze. Da sempre il mondo accademico è sempre stato la chiave di volta nel processo di trasferimento tecnologico, in quanto mette a sistema il mondo universitario, che è sempre stato custode delle nuove tecnologie, e il mondo aziendale che è sempre stato fruitore di tale tecnologie. Noi con questo accordo quello che vogliamo fare è mettere a sistema quindi tutto quanto questo mondo del digitale per poter quindi ridurre il gap verso il mondo industriale. Per la Siemens è sempre più importante creare collaborazioni con gli Atenei. L'azienda è presente da oltre 100 anni, è sempre più innovativa e moderna. Gli studenti, grazie al test center, potranno avere la certificazione delle competenze legate al mondo dell'automazione. Siemens è ormai presente in Italia da 124 anni, ha intrapreso da 15 anni questo percorso di avvicinamento alla digitalizzazione e inevitabilmente è un percorso che può essere raggiunto, i cui obiettivi possono essere raggiunti solo parallelamente a quelle che sono le attività di formazione. Quindi diventa fondamentale e devo dire che qui l'Università dell'Aquita è una delle prime realtà del centro-sud che sta operando in questo senso, avvicinare i futuri professionisti a queste tematiche che diventano sempre più importanti anche nell'ambito della sostenibilità, della produzione ambientale e temi sui quali sempre più ci si confronterà nel futuro.